Rincari di oltre il 90% sul costo dei mangimi per animali a carico degli allevatori, rincari che salgono ad oltre il 130% sul costo del gasolio, oltre all'aumento dei concimi per la produzione interna di mais e materie prime utilizzate per soddisfare i capi all'interno dell'azienda. E' questa la situazione con la quale devono convivere la maggior parte degli allevatori, ci dice Paolo Giorgi, cotitolare di un'azienda di allevamento di Pia Vagnevole, vicepresidente di Coldiretti. Il problema è che però il nostro prodotto finale, in questo caso la carne, siamo riusciti ad aumentarla solo di pochissimi centesimi percentuali e questo ci mette in grossa difficoltà. Circa un anno fa o un anno e mezzo un animale ci poteva costare circa 2 euro al giorno per alimentarlo, adesso ci costa circa 4 euro, ma anche qualcosa in più se andiamo a vedere bene, facciamo proprio tutti i conti della selva. Quando invece lo vendiamo a poche centinaia di euro, forse 100 euro in più di quello che lo vendevamo prima. Un'azienda che conta circa 700 bovini, allevati dai 7 ai 10 mesi e poi venduti in tutta la toscana prevalentemente in macelleria, agriturismi e ristorazione. Facciamo un'alimentazione completamente a secco dove cerchiamo per lo più di usare prodotti fin quanto riusciamo a usare prodotti di nostra produzione qui nella nostra azienda. secondo voi, secondo lei, questo aumento dei prezzi è derivato dalla situazione di crisi che c'è in Ucraina o c'è anche un po' di speculazione? Io credo che ci sia molta speculazione purtroppo. Io voglio prendere un esempio, quello del mais che per alimentare i nostri capi è fondamentale. In Italia abbiamo a disposizione il mais che vogliamo senza nessun tipo di problema e faccio un rapporto. Quando il mais costava 18-20 euro al quintale, adesso siamo quasi a 40 euro. Questo mi sta bene, però allora bisogna anche ricordarsi di quando il mais viene venduto dai nostri agricoltori che lo vanno a seminare e raccogliere e che gli venga pagato un giusto prezzo.